Mi chiamo Maurizio Mosciatti, sono un funzionario della regione Marche, settore competitività delle aziende agricole e struttura di centrata di Macerata. Oggi sono stato invitato dal dirigente scolastico per intervenire in questa giornata di consegnata di diplomi e per parlare di quello che è il complemento del sviluppo rurale, ovvero lo sviluppo rurale, i fondi che vengono concessi all'azienda agricole per aumentare la competitività. Quindi insieme al collega, al dottor Pollonara, parleremo appunto dello sviluppo rurale e delle opportunità che vengono riservate ai giovani agricoltori per l'insediamento e per sviluppare la competitività dell'azienda agricole.